Grazie, grazie di tutto. Grazie, è veramente eccezionale. Hai la delega di tutte le mamme in questo momento. Senz'altro, la porterò avanti con onore di tutte le mamme. Senti, che dici? Ospitiamo a Cielo a pranzo i nostri amici? Senz'altro, con molto piacere. Ok, perfetto. Sono veramente contenta. Se li porti veramente a cena, con molto piacere, li ospiterò. Allora, padre Gustavo, che ha potuto già assaporare i sapori della casa, quindi ci potrà ora dire, prima di tutto, se il biluppo può essere buono. Che dici? Come no, come no.